Parlando di effetti divertenti, a me è venuto in mente un effetto che ho sempre conosciuto come Bim Bum Bam. Mi riprometto sempre di fare una ricerca su questo gioco, ma poi mi dimentico sempre. So che è stato spiegato esattamente, chiamato Bim Bum Bam, credo su uno dei libri di Cimò, o di Cimò o di piccoli, sono abbastanza certo, ed è sempre un gioco che rientra un po' in quello che come categoria, anche se l'altro è un vero e proprio gioco di prestigio, alla fine è un gioco di prestigio, però la categoria giochi nei quali si prende bonariamente in giro lo spettatore, in gioco vengono chiamati Sucker Trick, Sucker vuol dire tra virgolette pollo, pollo inteso facilone in inglese, è quello che punta al gioco delle tre carte e perde sempre, per intenderci, per identificarlo. E uno di questi è Bim Bum Bam. che è molto divertente, tra l'altro non tutti i maghi lo conoscono, e la premessa è interessante, perché si prende un mazzo di carte e si dice, va fatto uno spettatore davanti, e si dice, guarda faccio un miracolo. Ora io guardo te negli occhi e tu guarda sempre me negli occhi, così potrai assicurarti che io non guardo nessun'altra parte, io solleverò le carte in un punto a caso e ti dirò esattamente a che carta ho tagliato. Ovviamente devo dire una formula magica che è questo, guarda, questo è quello che vedete, voi siete lo spettatore, Bim Bum Bam, 9 di picche, giusto? Dai te lo rifaccio. Bim Bum Bam, 10 di fiori. Lo fate un paio di volte e lo spettatore dice, no ma io ho capito, sono in grado di farlo anch'io. Allora facciamo così, se l'hai capito prova tu. Date le carte a lui, lui prende le carte, però gli dite, mi raccomando guardami in faccia. Hai capito? Bim Bum Bam. Lui va, non ci vuole niente, pronto, e adesso lo faccio come se io fossi di qui, quindi come se voi stesse facendo il gioco, quindi faccio Bim Bum Bam. E quello che vede lo spettatore, perché continua a guardarmi negli occhi, è questo. Bim Bum Bam. Ci rimane malissimo. A questo punto gli togliete il mazzo o fate vedere lo scherzo o potete anche finire puliti in mille modi. Come funziona è molto semplice. Al momento opportuno, secretamente girate sul fondo l'ultima carta, voilà, e fate esattamente quello che vi ho detto. Quindi tagliate in un punto a caso, Bim, Bum, la guardate, bam, e gliela dite. Lo fate un paio di volte, adesso lui guarderà voi, perché per dirvi, ah ma ho capito come si fa, senza fare mosse strane, semplicemente col pollice sotto, girate e dite, ok, allora prova tu. Gli date le carte, lui le prende in mano, e adesso la situazione in realtà è che sono tutte di faccia, tranne la prima. E questo è per quello che è importante dirgli, però guardami negli occhi come io guardavo te. Serve solo a non farvi vedere subito che c'è qualcosa che non va. Perché lui guarda voi, fa Bim, Bum, si trova un dorso e a quel punto non capisce più cosa sta succedendo e il gioco finisce lì. Però è molto divertente, provatelo con gli amici che secondo me è molto molto divertente. Se non lo conoscono, fa sempre un buon effetto. Sempre di questa categoria mi viene in mente, ma questo ne abbiamo già parlato, sempre come Sucker, ma qua in realtà è più falso errore, cioè sembra che voi abbiate sbagliato, è il famoso Circus Kartrick, che è un altro che pochi fanno, ma in realtà è un gioco molto potente. Per chi non lo conoscesse, l'effetto è una carta scelta, si girano le carte sul tavolo, dopo un po' che si girano, ci si ferma e si dice allo spettatore scommetti che la prossima carta che giro è la tua, però il problema è che lo spettatore ha visto passare tra questa e la sua e quindi ti dice ah sì sì non c'è problema, a quel punto voi andate a girare la sua. Vi spiego il metodo più semplice in assoluto per poterlo fare, anche se non siete bravi con le mani, ma ci sono dei punti importanti che lo rendono forte, anche con lo mazzo preso in prestito si può fare con le carte napoletane, le piacentine, usato non usato, non è un problema, lo fate mescolare, lo prendete, nel prenderlo guardate l'ultima carta, in questo caso il 6 di cuori, ne fate scegliere una, già questo che molti spiegano secondo me non è facilissimo, la cosa più facile, ne fate scegliere una, lui la prende, mentre guarda con tutta calma chiudete questi, lui la guarda, la fate rimettere in quella che sembra la metà, qua un'astuzia è tenere più basso quello dove volete che venga rimessa, perché dà l'idea del centro, no? Quindi voi avete aperto, mentre la guarda, li chiudete, aspettate abbassate un po', gli chiedete di rimetterla, potete anche dire centralizziamola, ma in questo modo, in maniera subdola, senza nessuna mossa, senza niente di difficile, adesso la carta è la successiva alla vostra chiave, voilà, sapete l'incirca dov'è, se volete velocizzare ne togliete qualcuna tagliando e dite adesso io tenterò di trovare la tua carta, io aspetto il 6 di cuori e le metto un po' a caso, questo è importante per dopo, quando arriva il 6 di cuori so che quella dopo è la sua e la metto in qualunque posizione, basta che io la veda, quindi vado avanti un po', e qua molti sbagliano, perché dicono scommetti che la prossima che giro è la tua, io voglio convincere al 100% dello spettatore che girerò questa, anche se non glielo dico, quindi poi non c'è fraintendimento, dico ok, secondo me scommetti che la prossima che giro è la tua carta, sposto, faccio questo gesto che non è scommetti che la prossima che giro è la tua, ma per come lo dico sembra che la stia indicandola, scommetti che la prossima che giro è la tua carta? Sì, ok, e qua potete giocarvela, voilà, 7 di cuori giusto? Grazie, andiamo a bere il caffè, altro, molto semplice ma sempre divertente, mi raccomando però, a meno che lo facciate ai vostri amici, se lo fate in spettacolo, perché comunque è un gioco professionale, sempre con eleganza e non mettete a disagio lo spettatore, al limite potete poi spiegargli una versione semplice o fare comunque poi un gioco dove lui ne esca da vincitore, mai lasciarlo in imbarazzo perché l'avete, passatemi il termine, fatto fesso, questo è importantissimo. Ragazzi, come sempre spero che il video sia soprattutto di stimolo per spronarvi a cercare delle cose nuove, oltre ai contenuti che magari non conoscevate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!